Anche perché grazie a Dio, crisi o non crisi, un mangiare c'è sempre. Un applauso un mangiare. Sono un fondamentalista napoletano, è così che si autodefinisce ironicamente il comico e cabarettista Simone Schettino. Nei suoi sketch traspare continuamente l'amore e il legame per la sua città. Originario di Castellammare di Stabia, Schettino è diventato comico ormai già adulto. Avevo 31 anni quando ho scoperto di voler fare il cabaret, ha detto ai nostri microfoni, ma mamma e papà non volevano, ha aggiunto sorridendo. Eppure Simone Schettino è arrivato presso il Rai e Mediaset facendo divertire, con i suoi sketch, adulti e bambini. In giro per l'Italia il comico napoletano ha portato il suo ultimo spettacolo anche in Molise, a Sant'Elena Sannita, all'interno della seconda edizione della festa del Tartufo e dei Porcini, organizzata da Tartufo Principe in collaborazione con la Proloco. A 31 anni vedi uno spettacolo di un monovisto dal vivo, così pesi sto colpo di fulmine, lo presero pure a casa. Fu un colpo in fronte però a casa perché chiaramente immaginare a 31 anni un universitario fuori corso, come lo ero io, e iniziare poi di punto in bianco una carriera nel mondo del cabaret non è stato facile per i miei. Ancora oggi non lo so, forno papà si è convinto. Alla fine voglio dire dopo 15 anni si è arreso, papà sono cabarettista, te ne devi fare una ragione. A Sant'Elena Gastronomia, Cultura e Storia si sono unite per dar vita ad un evento unico nel suo genere. Nella seconda giornata della festa anche una gara cinofila con partecipanti arrivati da tutta Italia. Siamo contentissimi perché abbiamo avuto partecipanti un po' da tutta l'Italia. È la cosa che mi fa piacere e che abbiamo avuto dei bimbi, dei ragazzi molto molto piccoli che hanno partecipato alla gara. Quindi per me questa è una cosa bellissima, che i bambini già iniziano ad avere una passione per il cane, per il tartufo. Il tartufo molisano, principe delle tavole italiane, è uno dei più buoni prelibati d'Italia e deve essere tutelato, come ha sottolineato anche il presidente dell'associazione italiana Tartufai, che ha apprezzato molto l'evento organizzato a Sant'Elena, al quale hanno partecipato centinaia di persone provenienti da tutto il Molise e non solo. Io sono venuto volentieri qua perché rappresentiamo come federazione circa 60 associazioni che sono sparse su tutto il territorio italiano. E' uno dei nostri compiti, quello di valorizzare il tartufo, di valorizzare la gastronomia e anche di valorizzare i cani per la ricerca del tartufo. E quindi abbiamo organizzato anche un campionato italiano di cani per la ricerca di tartufi.